Siamo a Fico, sesta edizione di Fatto ad Arte CNA. Siamo con Daria Zapsinà, una giovane epitrice che oggi è qui con noi per farci vedere un po' delle sue creazioni, quindi per raccontarci anche della sua arte, di come ha sviluppato determinate tecniche nel corso del tempo e di come sei anche arrivata a fare queste bellissime opere che ci stai presentando in questo momento. Raccontaci. Ho iniziato il mio percorso in Bielorussia quando fece le Belle Arti, l'Accademia, negli anni 90. Dopodiché per raffinare la tecnica mi sono trasferita in Italia, in provincia di Pesaro. Quindi la mia tecnica preferita, uso diverse tecniche, ma la mia tecnica preferita è la pittura ad olio. Scusami, ti interrompo. È quella che hai portato qui questa sera. L'applicazione di questa tecnica, come la scelta dei colori, la copertura della tela, segue la tradizione del Rinascimento e anche pre-rinascimentale, dove il colore non era lo stesso dell'oggetto che noi vediamo, ma voleva attribuire qualche significato diverso, forse più affine all'indole della persona che lo osserva. Poi anche la scelta dei soggetti. Io sono incorreggibile, non riesco a essere un'artista concettuale, quindi i miei soggetti sono molto sognanti. Forse si avvicinano allo studio dello psiche di Carl Jung. Seguire l'intuito, captare delle immagini nel subconscio, metterle prima su bozza, anche cercare di fissare questi colori che non sono soliti colori del quotidiano. Cioè il muro normalmente non è blu, ma il blu è il colore dello stato d'animo, che poi rende tutto, anche la materia stessa dell'olio che è solida, rende questa materia più fluida. Quindi anche il quadro risulta sicuramente più fluido nel suo insieme. L'altra cosa che mi dicevi che mi ha colpito molto è il discorso sulle parti soggetti che hanno questa particolarità di cui mi stavi raccontando, ma anche il concetto del cibo. Quindi tu stai portando su tela anche il discorso un po' di Bologna, cioè il fatto che Bologna è la città, la capitale del cibo, quindi ti piace portare su tela un po' della nostra città. Raccontami anche di questo. Il cibo rappresenta i momenti conviviali, quindi accompagna spesso i momenti più belli nelle relazioni tra le persone. Mi piacerebbe anche attraverso il quadro dimostrare alle persone quanto è importante sapere relazionarsi, quanto è importante godere i momenti veri della vita. L'altra cosa che mi ha colpito molto è l'altra tua tecnica che utilizzi, che è quella dell'acquerello. Infatti qui abbiamo i colori che tu utilizzi e che poi utilizzi anche per fare i quadri. Raccontami anche di questa tua tecnica che abbini o comunque unisci anche alla tecnica dell'olio, praticamente la pittura ad olio. La tecnica di acquarello è più immediata. È una tecnica dove c'è molto meno materia, c'è più trasparenza, c'è l'elemento acqua che è presente e quindi qui risalto molto la mia percezione del chiaro-oscuro. Lavoro molto evidenziando le ombre con la tridimensionalità illusoria. E cerco anche di mantenere molta trasparenza, lasciare molta carta bianca. Questo vedo che è molto apprezzato anche questo approccio. Qui ho portato anche pochi esempi. Diciamo qui c'è il ponte di Sospiri, che ancora non è completo il quadro. Non l'hai ancora completata. Però il bello di questa tecnica è che mi posso fermare in qualsiasi momento. Perché evidenziando poche ombre già si indovina il soggetto, già si crea una composizione tra queste macchie di colore, che è molto moderno l'approccio perché è quasi astratto. L'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che comunque tu fai anche dei corsi o comunque coinvolgi persone per avvicinarsi alla pittura, all'arte. E mi dicevi anche che hai un buon pubblico di persone dall'estero che ti chiedono anche cose molto personalizzate. E qui viene fuori l'artigianalità della tua arte. Raccontami anche di questo. Certo, io negli ultimi tempi lavoro molto con i clienti dell'Europa, degli Stati Uniti che comprano i miei quadri online, ho un negozio su portale Etsy e sto notando che quello che va di più sono ordini personalizzati. Oppure può essere dipinto di membri di famiglia in un ambiente di fantasia. Cioè qualcosa che non può rendere la fotografia, può fare l'artista. Quindi una grande personalizzazione sul prodotto che offri. Esatto. O i clienti che tornano, che dopo un ordine di prova iniziano a ordinare diverse cose. Perché questo è un piacere vedere che questa è dinamica. perché si nota che nonostante la tecnologia globale le persone ancora hanno bisogno di qualcosa di fatto a mano che permette di emozionarle, a pagare anche il mondo emotivo delle persone. Quindi diciamo un fatto ad arte al 100%. Grazie Daria. Grazie, grazie mille al CNA.